buongiorno ragazzi eccoci all'ultimo video della playlist delle forze oggi facciamo una delle nostre famose mappe concettuali dove andiamo a riassumere le cose più importanti visti negli otto video precedenti mappa utile da tenere sotto mano quando svolgete gli esercizi o per un ripasso per l'interrogazione buona visione abbiamo definito forza una qualunque causa che può deformare un corpo o modificarne lo stato di quiete o lo stato di moto abbiamo visto negli scorsi video anche che la forza è una grandezza vettoriale si indica con la lettera maiuscola con la freccettina sopra e quindi possiede un'intensità un modulo e un verso lo strumento che ci permette di misurare una forza è il dinamometro il disegno del dinamometro è questo quindi una molla all'interno di un cilindro abbiamo una scala graduata e alla fine del cilindro si attaccano i pesi l'unità di misura è il newton e il newton è dato da chilogrammi per metro su secondo quadro abbiamo visto che le forze agiscono in due modi possono agire a contatto oppure possono anche agire a distanza inoltre le forze hanno degli effetti e questi effetti possono essere di due tipi e precisamente statici o dinamici per quanto riguarda gli effetti statici queste forze agiscono sulla forma degli oggetti deformandoli per quanto riguarda l'effetto dinamico modificano il moto degli oggetti che sia partendo da uno stato di quiete mettendole in moto che modificando uno stato di moto già esistente fermando un oggetto o modificando la direzione o la velocità possiamo dire ancora un'altra cosa sulle nostre forze possiamo dire che le nostre forze possono essere ripartite oppure localizzate le forze si dicono ripartite quando agiscono su una superficie estesa una forza è localizzata quando agisce in un punto ben preciso del nostro corpo andiamo avanti e vediamo molto importante la relazione che c'è tra il peso e la massa di un corpo la formula che lega massa e corpo che sono tra loro direttamente proporzionali è f f uguale a m per g dove f è la nostra forza peso misurata in newton m è la nostra massa misurata in chilogrammi e g è la nostra accelerazione di gravità la cui unità di misura è metri su secondo quadro facciamo una seconda parte del nostro schema e parliamo di un corpo soggetto ad una forza un corpo si può definire elastico si può definire plastico oppure rigido a seconda di come reagisce alla forza si dice elastico se si deforma ma poi torna alla forma originale quando ovviamente la forza cessa di agire un corpo si definisce plastico se si deforma in modo permanente oppure rigido se mantiene invece la sua forma iniziale non la altera nel caso di un corpo elastico quello che possiamo dire di particolarmente importante è che la deformazione del corpo è detta allungamento è direttamente proporzionale alla forza che agisce su questo corpo e se succede questo allora si dice che il corpo segue la legge di oak la formula della legge di oak è una formula molto importante parla delle forze elastiche ed è f uguale a k per delta s dove f è la forza applicata misurata in newton k è la costante elastica misurata in newton su metri e delta s è il nostro allungamento che viene misurato in metri vediamo di mettere un disegno qui abbiamo una molla allo stato di riposo che ha lunghezza s 0 e una molla allungata dal peso che viene attaccato la differenza tra la molla deformata e la molla iniziale è il nostro allungamento il peso è la forza che noi applichiamo ci siamo ragazzi ultima osservazione su k k la costante elastica dipende dal materiale e dalla forma del corpo e la formula inversa per trovare la costante elastica è data dal rapporto tra forza e allungamento terminiamo lo schema con un osservazione la legge di oak si può vedere ovviamente in forma vettoriale come forza vettoriale uguale a meno k per delta s questo meno sta a indicare una cosa ben precisa questa forza di cui parliamo è la forza elastica cioè la forza che la molla oppone alla forza esterna detta f esterna che agisce sulla molla quindi se noi tendiamo a tirare la molla con una forza esterna con un peso esterno a comprimere la molla ovviamente c'è una forza elastica che è la forza della molla che si oppone e tende a riportare la situazione e la lunghezza della molla al suo stato di riposo questa a segno opposto alla forza esterna perfetto ragazzi spero che questo schema sia chiaro e che sia servito per farvi ripassare tutto quello che abbiamo detto e qualcosa in più nella playlist sulle forze come sempre se qualcosa non è chiaro scrivetemi grazie per il continuo sostegno iscrivetevi al canale e intanto vi auguro buona fisica grazie a tutti